Evviva! Evviva era una frase che ripetevano sempre la premiata di Ipta Garinei e Giovannini per festeggiare i successi dei loro spettacoli, delle loro creazioni. Oggi mi sento di dire anch'io evviva, un sogno costruito in dieci anni, è diventato realtà, un impegno, una dedizione, una marea di sacrifici si sono trasformati in applausi e successi in tutta Italia. Domani ripartiamo dall'Aquila, torneremo in Veneto per poi girare gran parte d'Italia. Ortona, seguici, ortonesi, seguiteci, continuateci a sostenere con i vostri messaggi, i vostri auguri e il vostro affetto. Ve ne saremo sempre grati e speriamo di rivederci presto ad Ortona. Ciao!